era salita in camera di un nostro cliente prima di lei ci sono state tre vittime tutte prostitute che cosa si ricorda ha detto che è stata inseguita in macchina come si sente non lo so è tutto buio la riabilitazione ti renderà autonoma cosa vedi una ragazza che corre con le cuffie un furgone bianco parcheggiato cosa un furgone bianco parcheggiato l'unico sopravvissuto è il bambino di dieci anni che si trova in un istituto d'accoglienza posso aiutarti è il furgone bianco hanno ammazzato due polizonti davanti a casa tua aiuto aiuto a allora Grazie a tutti.